Cart Small Like Ten Spirit Così scrisse la batterista delle Bikini Kill dopo la notte passata con Cart Cobain. È il 1991, al leader dei nirvana piacque l'idea di profumare come l'anima di un teenager e con questa idea scrisse il pezzo icona del grange anni 90, appunto Small Like Ten Spirit. Adesso questo pezzo pazzesco è diventato un profumo pazzesco. Ten Spirit di Double Dragon In realtà Ten Spirit era un deodorante dolce e fruttato molto in voga tra gli adolescenti degli anni 90 ed era proprio questo che intendeva il messaggio lasciato su parete. Un profumo schifosamente dolce, dove la frutta va a impastarsi a sentori quasi di colla industriale. Un profumo alternativo dallo spirito grunge e riverente. Hello, 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 hello. Hey, Walker, hello, right, hello, sãoi .